Dopo aver iniziato a lavorare e a costruire il lavoro televisivo e quello di questo libro continuo a stupirmi di quanto sia difficile fare passare alcuni concetti, alcune cose che sono evidenti, sono oggettive, che altri prima di noi hanno notato come i colleghi Edoardo Montolli e Felice Manti che da anni avevano tolpito su alcuni fatti, su alcune verità che non lo erano, alcune cose che chiaramente non tornavano e che pure era così difficile comunicare e far credere, cose oggettive, cioè impossibili da negare